Il fallimento è un grande maestro. Oggi ti leggo un altro brevissimo paragrafo dal libro Massimo Rendimento di Brian Tracy che è un libro veramente strapieno di concetti ed è veramente veramente... andrebbe letto più e più volte perché c'è un botto di roba. Allora, queste sono veramente poche righe ma interessante. Il fallimento è un grande maestro. Thomas J. Watson, padre fondatore dell'IBM, la metteva in questi termini. Volete avere successo? Raddoppiate il vostro tasso di insuccessi. Il successo sta dall'altro lato del fallimento. Ricordate, il fallimento non è mai definitivo. È semplicemente un modo di imparare le lezioni che vi servono per avere successo. La sola cosa che la paura di fallire può garantire è l'insuccesso definitivo nella vostra vita. Tutti i grandi uomini e le grandi donne hanno sviluppato l'abitudine di affrontare la propria paura di fallire e di agire nonostante quella paura, fino a quando l'abitudine al coraggio non fosse diventata parte del loro carattere. La paura di fallire si supera muovendosi con fiducia in direzione dei propri sogni e comportandosi come se fosse impossibile non riuscire. Come disse Henry Ford, l'insuccesso non è con ulteriore opportunità di ricominciare da capo in maniera più intelligente. Oggi non aggiungo altro perché credo che queste poche righe racchiudano veramente una verità incredibile e tantissime persone si fanno frenare dalla paura di sbagliare, quindi dalla paura di fallire, ma come dice Brian Tracy, il fallimento non è altro che un risultato che otteniamo a seguito di una serie di azioni fatte che non hanno portato il risultato che speravamo. Quindi noi facciamo una determinata azione pensando di ottenere un determinato risultato, non è così e quindi cosa dobbiamo fare? Cambiare l'azione che stiamo facendo per ottenere quel risultato che vogliamo raggiungere. E l'unico vero fallimento avviene nel momento che smettiamo di cercare appunto la soluzione a un determinato problema. Quindi non aver paura di fallire o di sbagliare o chiamalo come vuoi perché davvero quando fai qualcosa che non hai fatto inevitabilmente andrai incontro a dei problemi, degli successi, dei fallimenti, ma semplicemente ci si rimbocca le maniche e ci si rimette al lavoro nuovamente per trovare una strada funzionante. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, secondo Brian Tracy la paura di fallire è il quarto elemento che genera più stress alle persone e ti leggo altre due righe che sono sempre all'interno del libro e scrive Questo timore si manifesta generalmente in indecisione, ansia e preoccupazione. Accompagna la sensazione del non ci riesco che si insiede nel plesso solare rovinando la digestione facendo sentire preoccupati e insicuri. Può distruggere la vostra ambizione e compromettere i vostri propositi. Invece di dedicarvi a realizzare il vostro potenziale, siete tormentati dal pensiero di non fallire. Il vostro unico pensiero è quello di non correre i rischi. La paura di fallire è una reazione condizionata che si apprende nell'infanzia, ciascuno ne è dotato in qualche misura. Vi fa essere prudenti e se lo siete con moderazione è una buona cosa, ma quando la paura di fallire si spinge troppo oltre può diventare un grosso ostacolo al vostro successo e alla vostra felicità. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!